9 veicoli e 116 persone passate al setaccio, controlli che hanno portato anche ad un arresto e al sequestro di cocaina. Questo il bilancio di notte di superlavoro dei carabinieri in Valdichiana, scesi in campo con 10 pattuglie sia in divisa che in borghese. Il personale della stazione di Monte San Savino ha così individuato ed arrestato un cittadino di origini magrebine ma da tempo residente in zona, poiché è destinatario di un provvedimento definitivo di carcerazione. Adesso sconterà la pena definitiva sino al maggio 2022 nella casa circondariale di Firenze. Sempre a Monte San Savino, i militari poco dopo l'una hanno controllato due cittadini extracomunitari trovati in possesso di 0,50 grammi di hashish, sono stati così segnalati alla prefettura. Segnalato poi dai carabinieri della compagnia di Cortona, un uomo trovato in possesso, nascosto nelle tasche dei pantaloni, di un involucro di celofan con dentro circa un grammo di cocaina. La droga è stata sottoposta a sequestro. I militari infine hanno anche rilevato tre incidenti stradali, uno dei quali con un ferito non in pericolo di vita, trasportato in ospedale. Le verifiche sono state estese pure ad un locale dove non sono state rilevate inadempienze di alcun genere.